Ispirato a una storia vera, ogni notte lui racconta le sue storie al mondo. In gli studi di New York vi parla Gabriel Nunn e questo è Nunn di Notte. Lo pubblicheremo il prossimo trimestre. Poi ha letto una storia e non riuscì a dimenticarla. Ho letto il tuo libro, mi è piaciuto tanto, sai? Giuro che sei davvero tu. È carino, chiunque gli sia. Sono Donna, la mamma di Pete. Ciao. Ci farebbe piacere se tu venissi a trovarci. Sul serio? C'è nessuno? Il numero selezionato non è attivo. Adesso. Tu conosci qualcuno che ha visto Pete Logan? Alla ricerca della verità. Ho fatto un po' di ricerche. Non c'è nessuna traccia di nessun Pete Logan in nessun ospedale. Sono stati trascinati in un mistero. Hai pensato a un'impronta vocale? Sono io, Pete. È come l'impronta digitale. Che ha un terribile segreto. Dov'è Pete? Io non ti porterò da lui. Non lo farò. Devi chiamare la polizia. La tua storia non ha un finale, Gabriel. Che cosa vuoi? Dillo! Non ti permetterò di farlo. Una voce nella notte. Una voce vi dirà la verità. che cosa vuoi fare. Non ti serve. Le loro davvero. Da polizia non ha un valore. Non ti tormento. Versi. Grazie a tutti.